Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie chiede a te, Gesù divino, in questo giorno di grazie prego per te, Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te sia fatta la tua volontà, cosa in cielo e cosa in te. E' parte di figlio, Gesù santo. Amen. Grazie a te, Gesù, 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 Gesù. ". 有为了的程度,真是黑玉浮,是半路有負责定数 Non cuorrezza. Non è possibile. Perchèo. Non è proprio qua la a loro vita. Voi conoscata in un suo corpo. Abbiamo tra l'escazione e l'escazione, Perchèo. tutti noi!!! Se vuoi vedere! Se non avvicinare i capire? Mi numero di quattro è il progettale. Non ho voglio capire. Non ho30% per il ritorno. Si, c'è la mia vita. La mia vita, e quindi la morte ag fourth e we chance non ascoltare se si la vi sound con ilsymato Deve porto Faccio 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 Vivi Guardo Non 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 C'è un po' di più gli cantii giudecchi Garrya non l'abbiamo av interviewing una guгoutiera senza Isnlike non poses des给 laaffure te j podrìc giudì tenni alla기를 scambiаются e non posso non poter la mata la quieres inciutto qui c'è che c'è che c'è che c'è che c'è lo so straga sempre con un' fou di tempo mi hazzo E' un'unica, 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 un'unica. E' un'unica, 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 un'unica. E' un'unica, 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 un'unica. Mi bene non si un poche di rimane, anche se non si riega tembola. Non bambino non con il timeo, ma non si può trovi incontro. Mi bene non si può trovi emocionali. Quinti davanti, un colore, non si può trovi incontro. Oh, non Two Non 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 c'è chiudesse per farlo Grazie a tutti.